A Milano, Biondetti amministra saggiamente la vittoria sicura. I coniugi Comirato vogliono garantire alla loro 1100 il secondo posto assoluto. I due scagliarini ballano i balzer. Al traguardo gruppo compatto e vitorioso delle Fiat 1100 score. 5 arrivate nelle prime 10. E Biondetti ha vinto anche quest'anno. Non c'è due senza tre. A Milano, Biondetti ha vinto anche la vittoria sicura. A Milano, Biondetti ha vinto anche la vittoria sicura. A Milano, Biondetti ha vinto anche la vittoria sicura. A Milano, Biondetti ha vinto anche la vittoria sicura. Grazie.